Guarda la donna vestita di nero. La riconosci? No. Non la trovi attraente? No. È stata tua moglie per più di vent'anni. Io sono Arturo Silva, tuo gallerista da qualche secolo. Ti ricordi quel tuo quadro, Il nudo di donna? L'ho venduto ad una cliente. Ma io non ce l'ho. No, ce l'ha Laura. Porca puttana, e tu chi sei? Calmo, calmo, calmo. Io sono il papà di Laura. Vieni, vieni, per favore, vieni, dai. Chi c'è? Ma chi è? Caronimo, sono il suo dottore. Per me è come una figlia, Laura. Signore, io voglio essere suorgino. Che sia una leggenda vivente. Una leggenda vivente. Tutto era abbastanza buono. Molte grazie. Ma non scomodarti a portarmi il conto, perché non ho alcuna intenzione di pagare. Però vorrei che mi portassi un altro bicchierino di questa grappa italiana che è davvero buonissima. Noi siamo amici da più di 40 anni, Renzo. Questo pranzo è soltanto una minima ricompensa per tutto l'apporto che in quanto artista ho dato a questa società di merda per più di 50 anni. Signore? Ora portatemi la grappa e tolgo il disturbo. Grazie, grazie.